e caro imprenditore di successo complimenti due volte complimenti intanto per aver ricevuto questo invito e complimenti per aver scelto di visionare il messaggio contenuto al suo interno eh io intanto mi presento sono Antonio Sinopoli consulente marketing in questo momento so benissimo ed è comprensibile e legittimo starai pensando di chiudere subito la busta prima di farlo ti invito ad ascoltare alcune tra le tante testimonianze di tuoi colleghi imprenditori che hanno scelto nonostante diffidenze iniziali eh di poter affidarsi ad Anchio Spot e sarai tu stesso poi a tranne le tue conclusioni per cui mi raccomando eh io spero eh quanto meno possa ascoltare quello che i tuoi colleghi hanno da dirti perché possa aprire la busta e vederci lì direttamente nella tua attività e quindi avere il piacere e la possibilità di aiutarti a fare in modo che la tua attività ottenga il valore che merita ci vediamo presto a presto a presto a presto a presto a presto